Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di un tema che secondo me non si conosce tanto ed è quello del medical tourism. Cosa significa medical tourism? Significa sfruttare delle opportunità di viaggio oppure organizzarsi dei viaggi appositamente per risolversi dei piccoli o grandi problemi di salute. Per esempio per tanti statunitensi è più comodo e anche più vantaggioso economicamente acquistare un volo e un pernottamento per la Colombia e farsi le varie operazioni ai denti lì e nel frattempo farsi anche una vacanza piuttosto che fare tutto nel proprio paese di origine. Insomma, qua a Cangu ho trovato esattamente Aberawa, praticamente più o meno di fronte allo Starbucks, c'è un posto che si chiama Sunset Eyewear e stanno scostando questi occhiali, quindi con montatura e lenti, mi sono costati la bellezza di 170 mila rupie che equivale a 10 euro. Era ora, era ora di cambiarmi, è tipo una vita che devo cambiarmi. Aiutami a decidere, ne avevo provati a centinaia. Allora la montatura costa 70 mila rupie, 4 euro, e le lenti sopra 100 mila rupie, 6 euro. Quindi 4 più 6, 10 euro, mi faccio un paio di occhiali qua a Bali. Io sono sconvolta, ovviamente. Cambio un po' stile. Questi seria, questi Kelly. Dai, andiamo a prenderli 10 euro. Chi paga? Ok, sono qua, ho scelto la montatura dopo un po' di indecisione e mi faranno anche l'esame. gratuitamente. Cioè, che figata. Credo il mio ultimo esempio è 2014. Numero 6 è EDFCZP. Ok, quindi io spesso prendendo 325, così l lifecycle. Ufficialmente i occhiali nuovi. io sono abituata in italia 2 300 anche di più 400 euro e insomma l'ho sempre rimandata come cosa anche perché l'ultima volta che avevo fatto una montatura era il 2014 ed ero in australia e anche lì i prezzi soprattutto relativamente a quanto si guadagna in australia erano bassissimi guadagnavo uno stipendio di circa 3000 dollari al mese e due paia di occhiali uno da sole uno da vista entrambi graduati mi erano costati 99 dollari niente praticamente ed è girata voce qua a sangue tutte le persone che abbiamo conosciuto che c'era questo posto incredibile adesso fatto di per prova solo quelli quelli da vista ma probabilmente andrà a fare anche quelli da sole insomma certamente non siamo venuti qua bali per fare una montatura e le lenti non sarebbe convenuto di certo però è interessante combinare queste due cose e quindi sfruttare diciamo in senso positivo un viaggio per farsi anche tutta una serie di cose questo è un bel modo di unire come si dice due piccioni con una fava no anche quindi di unire l'utile al dilettevole secondo me ci sono molte opportunità in questo senso io adesso non so quali siano le vostre condizioni quali siano le vostre mete preferite però io farei un po di ricerca a riguardo e sono sicura che potrete trovare dei diciamo delle offerte super vantaggiose nel frattempo farvi anche una piccola vacanza che male non fa per esempio una delle cose che mi piacerebbe fare perché come vedete sono cecata e l'operazione definitiva agli occhi e ho sentito che conviene molto farlo in america siccome io vorrei farmi un bel viaggetto in america magari anche un road trip in in van prima o poi approfitterò sicuramente del del viaggio che vorrò fare e ci inserirò anche questa questa piccola operazione cina questo per dirvi che ci sono tantissime opzioni e potete fare un po di ricerca e vedere se c'è qualcosa che interessa anche a voi e soprattutto se la meta anche vi vi intriga o meno per esempio se mi chiedi se mi dicessero vai in groenlandia che ti puoi fare non so che cosa probabilmente non andrei perché ho freddo io vorrei andare in un paese possibilmente caldo questa questo è un po come sono fatta io a meno che proprio non ci sia il deal definitivo ma probabilmente sarebbe hardcore per me grazie mille per aver guardato questo video se avete qualche commento insomma qualcosa da dire lasciatelo qui sotto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao